ciao ciao a tutti questa questo è il terzo appuntamento di questa rubrica di questo di questo diario di riflessioni sul web io mi occupo di web marketing ma in questa occasione per questo tipo di appuntamento sul web allargo la riflessione dal dal tema della ricerca clienti dal tema del contatto con il proprio mercato di riferimento a un tema più generale che riguarda il nostro rapporto come persone col web quindi è una cosa un po diversa rispetto a quello che faccio per parlare di problemi di utilizzo del web per trovare clienti in questo caso la riflessione non va direttamente ad essere utile per trovare nuovi clienti per i nostri servizi per i per i vostri servizi nel caso siate imprenditori oppure per i vostri prodotti nel caso siate una piccola impresa una micro impresa un laboratorio artigianale la riflessione è più generale ma in qualche modo essere riflettere sul web sulla maniera in cui questo strumento di comunicazione trasforma le nostre attività essere consapevole di come cambia il nostro modo di lavorare ha sicuramente anche può avere anche un impatto sul nostro modo di lavorare sul web per trovare clienti in questo caso il tema che mi interessa in qualche modo affrontare è la crescita della nostra esperienza in fatto di comunicazione insomma chi è nato diciamo nel dopoguerra in poi dagli anni 40 in poi ha fatto esperienza di cinema di televisione di teatro e quindi conosce questi strumenti questi questi luoghi questi o in questo in qualche caso conosce questi mezzi di in qualche caso nel caso della televisione possiamo dire conosce questo elettrodomestico perché sta in casa e ci permette di vedere da anni trasmissioni informazione divertimento intrattenimento insomma chi che ha fatto e esperienza di questo tipo di di comunicazione ha imparato tante cose attraverso il cinema tante cose che riguardano la vita sentimentale ma anche la vita sociale insomma abbiamo capito attraverso il cinema abbiamo capito le trasformazioni sociali avvenute nel nostro paese per esempio attraverso la televisione ascoltiamo musica guardiamo documentari ascoltiamo telegiornali da anni quindi siamo fruitori nel caso del web la differenza fondamentale sta nel fatto che noi diventiamo oltre a fruitori di comunicazione di informazione di intrattenimento di spettacolo diventiamo creatori di contenuti è un passaggio molto importante come fruitori tutto diventa molto più complicato perché dobbiamo sceglierci il canale la fonte dal quale dalla quale diciamo trarre informazioni per esempio oppure lo spettacolo da vedere ma come come diciamo creatori di contenuti siamo in una fase nuova e siamo tutti diciamo chi chi più interessato chi meno interessato creatori di contenuti secondo me io penso che noi stiamo imparando anche solo nel tempo libero non solo per lavoro a capire come 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 fare delle fotografie stiamo capendo come fare dei video scriviamo continuamente commenti ai post di altri scriviamo i nostri post quindi per la prima volta in questo strumento di comunicazione nuovo che ha a che fare con un computer da caso a che fare con un cellulare tra le mani noi stiamo imparando a a scrivere cosa che in qualche modo avevamo lasciato sui banchi della scuola e che qualcuno faceva e fa per mestiere in un ufficio ma che non tutti fanno per mestiere nessuno c'è un commesso chi lavora in un ristorante o chi lavora in un laboratorio in una fabbrica per lavoro non scrive magari torna a casa e scrive un romanzo se gli interessa se è bravo se sa farlo ma stiamo parlando di di casi speciali eccezionali occasionali ma coi social noi chi chiunque sta sui social e adesso ci stanno decine di milioni di persone sui social in italia noi scriviamo post certo scriviamo delle cose molto brevi ma scriviamo delle cose commentiamo se date un'occhiata agli articoli su un giornale online su una grande testata nazionale online sotto gli articoli di opinionisti famosi ci sono i commenti di tante persone e spesso sono dei commenti poco interessanti o anche stupidi ma anche per commentare per fare un commento stupido devi scrivere e se ti vuoi fare un selfie se vuoi fare un selfie che ti piace se vuoi fare una foto delle tue vacanze stai lì a decidere come inquadrare col cellulare e lo stesso vale per i video ecco questa cosa qui sta cambiando secondo me rapidamente soprattutto dalla grande diffusione dal momento in cui si sono diffusi largamente in gli smartphone i cellulari sta sta cambiando rapidamente le nostre competenze e poi è chiaro si può in qualche modo essere anche infastiditi da tutto questo ma siamo tutti scrittori siamo tutti fotografi tutti video maker è chiaro che non che che nessuno che fa video foto o scrive post può considerarsi uno che fa il mestiere di fotografo il mestiere di il mestiere di scrittore o il mestiere di video maker eppure la competenza di tutti noi sta aumentando chiaramente questo significa secondo me è un aspetto molto importante che la nostra capacità di giudicare chi fa il mestiere di scrittore chi fa il mestiere di regista di video maker di attore o di fotografo sta aumentando rapidamente a me sembra una grande opportunità per imparare cose nuove per comunicare le nostre competenze comunicative relazionali stanno aumentando è chiaro che io in ufficio comunico in un modo e sul web comunico in un altro con gli amici sui social prima potevo fare solo la comunica potevo comunicare con le persone solo al bar nel circolo in ufficio adesso posso farlo attraverso i social quindi c'è un luogo nuovo il web nel quale si sviluppano delle competenze che sono specifiche del web nel senso che impari a fare delle cose che magari poi non riporti uguale uguale in altri luoghi se io imparo a fare dei video non è che in ufficio comunico con i video comunico ancora sembra banale però non è proprio banale nel senso che non tutte le esperienze sono diciamo come dire utilizzabili in tutti i luoghi le esperienze che si fanno nel web sono specifiche del web e però influenzano anche la nostra capacità di comunicare fuori dal web e quindi io sono convinto che questo ci stia in qualche mondo in qualche modo fornendo una grande opportunità per comunicare con gli altri per far conoscere il nostro punto di vista e ci sta dando la possibilità di sviluppare competenze per capire cosa ci viene detto dalle televisioni ci dà le competenze ci dà nuove competenze per capire che cosa ci viene detto in un film in un telegiornale insomma penso che sia una cosa molto importante chiaramente tutto questo diventa anche e dico anche perché non è solo quello che ci interessa come persone ma diventa anche qualcosa che è dispendibile nel nostro lavoro perché riusciamo a comunicare in molti modi con la nostra clientela potenziale riusciamo a comunicare agli altri meglio ciò che siamo attraverso il web come aziende e come professionisti ciao a tutti buona giornata Grazie a tutti